La manifestazione, suddivisa in 15 appuntamenti in programma fino al 28 ottobre, rappresenta un vero e proprio road show che unisce prove in campo ed open day organizzate in collaborazione con i concessionari Landini. Landini è una realtà sul territorio reggiano nel quale ci troviamo. Abbiamo centralizzato ultimamente tutti gli stabilimenti nel territorio reggiano perché vogliamo costruire un prodotto veramente made in Italy. Non vogliamo costruire all'estero, siamo italiani, siamo qui oggi con parecchie macchine perché è importante per noi far toccare con mano quelli che sono i nostri prodotti. Protagonista di Formula Landini è l'intera gamma Landini con un focus particolare sui modelli più affermati in termini di tecnologia e innovazione, tra i marchi anche Argo Tractor. Argo Tractor è una realtà industriale italiana esportata nel mondo. è un gruppo industriale che contempla tre marchi, quindi Landini, McCormick e Valpadana che vengono realizzati completamente in Italia, quindi è un prodotto full made in Italy e viene esportato in tutto il resto del mondo perché il 78% del nostro fatturato viene realizzato fuori dall'Italia. È chiaro che l'attenzione comunque rimane forte anche sul mercato italiano che è uno dei principali per l'agricoltura. Obiettivo dell'iniziativa è quello di permettere agli agricoltori di toccare con mano gli ultimi modelli e scoprire come la tecnologia Landini possa aiutare a conquistare risultati sempre migliori sul campo. Sabato e domenica la manifestazione si è svolta a Barco di Bibiano presso l'officina di Roberto Pioli. È un'azienda che è stata fondata da mio padre più di 50 anni fa e su Parma abbiamo raggiunto buoni successi sia nel campo della meccanizzazione agricola e quindi sia nei trattori che nelle attrezzature ad essere collegate. Proviamo i nuovi modelli e facciamo conoscere anche la realtà di servizio che può offrire l'officina di Roberto Pioli. Ecco la sua officina dunque? È un'officina meccanica che facciamo sia riparazioni che anche attrezzature e con l'aiuto del signor Marvasi abbiamo avuto l'opportunità di mettere in piedi questa cosa. Mio padre nel 1939 andava da Parma a fabbrico in bicicletta, in bicicletta era operario di Landini, lui faceva le consegne, portava a casa i soldi e Landini era abbastanza contenta. Poi nel 1947 ho fatto l'officina ed era ufficina autorizzata, non era concessionaria. Nel 1960 mi sono diplomato, sono andato alla vecchia emiliana esercizi elettrici che poi è Enel, sono licenziato dopo un anno e abbiamo preso la concessionaria.